Ci troviamo sempre qua a fare San Martino, alle ore 18 c'è la gara di campionato, la seconda fase di campionato provinciale categoria allievi, Valle Aventino, Virtus Castelfrentano. La Virtus Castelfrentano è qua, il blocco dei titolari, con la classica divisa giallo-rossa, calzettoni rossi, angoloncini rossi con risvolti gialli. Qua c'è il direttore, ecco Nicola Perrucci, Cristian, Michele, Dondino, Alessio, Lele, Riccardo, Teidi. Match, match partirà da titolare con la maglia numero 9. È una formazione ringiovanita oggi, c'è un'abbondanza di 2003 in formazione, Nicolò pure che parte da titolare, numero 6. Dopo c'è Nicola Perrucci con la sua maglia, la numero 8. Alessio con la numero 3. Riccardo con la numero 2. Michele con la numero 10. Lele con la numero 7. Cristian con la numero 4. Dondino con la numero 5. Nicolò con la numero 6. Teidi con la numero 11. Invece qua c'è i ragazzi che partiranno dalla panchina, ma sicuramente avranno spazio. Qua c'è il portiere, l'unico, non c'è il secondo portiere oggi. Matteo d'Ottavio. Qua c'è Di Donato il suo esordio. Giusto, non è l'esordio oggi in serie superiore. Di Donato Federico. Gioca con il numero 16. Dopo c'è Vladutu, Cristian, Nicolòe con il numero 15 se non sbaglio. Dopo c'è anche l'esordio. Mi pare già giocato quest'anno con il superiore. Con il numero 17, Emanuele Caporale. Dopo c'è il numero 14, Bartolomeo Cirillo, detto e conosciuto meglio con il nome di Bartolo. C'è Guido con il numero 13. Fra pochi minuti faremo l'ingresso in campo. Ci sarà l'appello da parte dell'arbitro. Lì in fondo ci sono i ragazzi della Valle Aventino. Ci troviamo proprio sotto le montagne della Maiella. Ecco, c'è stato un forte acquazzone anche con grandine. È vento, forte. Siamo quasi alla fine del campionato. Signore e signori, a fra poco.